Eccoci ritornati in diretta e come preannunciato è giunto il momento per ricordare una persona cara a Padre Pio, cara alla sua opera Casa Sollievo della Sofferenza nel decimo anniversario della sua scomparsa. Parliamo del dottor Francesco Lotti e abbiamo l'opportunità di poterlo ricordare con suo figlio Pio Alberto. Buongiorno dottore. Buongiorno. Grazie. Grazie a lei per essere qui con noi, per averci dedicato del tempo e per ricordare questa figura straordinaria dell'uomo, del professionista che è stato il suo papà Francesco. Ecco, come arriva il dottor Francesco Lotti a San Giovanni Rotondo? Qual è il suo percorso professionale che si sviluppa intorno alla straordinaria figura di Padre Pio? Mio padre nasce a Bologna nei primi anni venti, in una Bologna depressa dalla crisi economica e rimane orfano all'età di 11-12 anni, per cui in una situazione di grande disagio familiare la nonna che era già una fedele di Padre Pio lo accompagna a San Giovanni Rotondo. Quindi il primo incontro con Padre Pio avviene in età adolescenziale e Padre Pio consolandolo gli dice «Non preoccuparti che sarò io tuo padre». Negli anni successivi, fatti gli studi liceali, lui e il fratello Luciano entrano in accademia militare. Lo zio Luciano va all'accademia aeronautica, mentre mio padre entra all'accademia di Modena. Un episodio particolare di questo evento è legato al fatto che mio padre, diventato ufficiale, viene chiaramente chiamato alle armi per la Seconda Guerra Mondiale e nel 1943, era appena avvenuto l'8 settembre, viene a raccomandarsi a San Giovanni Rotondo a Padre Pio perché il suo battaglione deve partire per la Grecia e viene insieme a un suo carissimo commilitone. Padre Pio col suo fare sannita li guarda e gli dice in dialetto «Ma a voi due chi va a cide?» Però poi, serio, dice a mio padre «La guerra finirà presto. Tu verrai a fare il medico su questa collina perché qui sorgerà un grande ospedale e io ti vorrò qui a fare il medico con me. Perciò vai all'università e iscriviti». Mio padre rimase scioccato perché in piena guerra, con i bombardamenti sul nord Italia, era in procinto di partire per la Grecia, fidando sulla parola di Padre Pio che come figlio aveva sempre ascoltato minuziosamente, torna a Bologna e in qualche modo riesce a iscriversi all'università. Non parte più per la Grecia e, arrivati alla fine della guerra, torna a trovare Padre Pio con un viaggio avventuroso. Ricordo che parlava di questo viaggio a bordo, legato sulle botti di un camion che scendeva dal nord e che lo lasciò al passaggio a livello di San Marco in Lamis, per cui poi i san marchesi accolsero lui e altri commilitoni, li fecero riposare e il giorno dopo si presentò ancora in divisa da Padre Pio, il quale lo accolse in maniera felice e contento di rivederlo, ma poi subito gli disse «E gli esami come stanno?». E quindi, padre, c'è stata la guerra, dice «Senti, entro Natale devi fare questi esami». «Va bene». E così, in maniera un po' fortunosa, cominciò a prepararli e Padre Pio lo incalzava sempre di più. Giunto alla laurea, Padre Pio, per confermargli che doveva venire a lavorare con lui, gli dice «Quando mio padre chiede «Vorrei fare il chirurgo come specialità?», io ho bisogno del medico dei bambini. E mio padre, ubbidendo sempre all'indicazione di Padre Pio, andò a iscriversi alla specialità in pediatria. Ebbe, come d'altra parte Padre Pio prevedeva, la fortuna di incontrare questo cattedratico, il quale era, diciamo, molto ben disposto verso mio padre, a punto tale che dopo la specialità lo aveva già avviato alla carriera universitaria. Però Padre Pio sapeva quello che voleva e quindi, diciamo che all'inizio degli anni 50, lo manda a chiamare e dice «Vieni a San Giovanni Rotondo». Il commiato dal cattedratico fu, diciamo, un pochino così di grande dispiacere da entrambe le parti, però mio padre venne a San Giovanni e i primi anni faceva il medico del paese, quindi curava i bambini con quei pochi mezzi che c'erano e viveva un po' di caciocavalli, prosciutti e quello che potevano dargli, data la situazione misera del paese in quegli anni del dopoguerra. Poi una sera degli anni 50, Padre Pio, come al solito prendendolo un po' da parte, gli disse «Sai, ho fatto un sogno, ho sognato che ti sposavi con una ragazza di Torino». mio padre cadde dalle nuvole, dice «Ma io, Torino, non conosco nessuno». E Padre Pio lasciò cadere il discorso. Uscendo dalla chiesa, sente parlare due ragazze con la madre. erano appena arrivate da Torino, la mia madre si era appena confessata con Padre Pio e Padre Pio le aveva detto «Ti ho fidanzato con Franco Lotti». Mia madre, che era una devotissima di Padre Pio e che non discuteva nulla di quello che Padre Pio diceva, disse questa frase alla madre «Mio padre si trovava» e lei disse «Non so chi sia». E mio padre, trovandosi nelle vicinanze, sentita la frase, si avvicinò e disse «Sono io». E così nacque questa conoscenza, da cui poi venne fuori un matrimonio. Padre Pio piantò un seme che dette un albero con una enorme quantità di frutti. Intanto li stiamo vedendo. Una famiglia numerosa, con nove figli, fra cui un sacerdote. Intanto mio padre aveva cominciato a lavorare in casa sollievo nel 1956. Ricordo l'episodio, ero piccolissimo sulle spalle di mio padre, che entravamo dietro a Padre Pio, dietro al cardinale Ercaro, che tagliavano il nastro e mio padre, che si insinuava tra la folla per cercare di essere più vicino a Padre Pio. Quindi anch'io ho avuto una sorta di battesimo verso questo ospedale, nel quale poi ho lavorato per 40 anni. Iniziò a lavorare in tre camerette del reparto medicina, con questa piccola sezione pediatrica, portando un notevole contributo a quella che era la situazione di grave disagio sanitario nell'area del Gargano. Poi capitò un episodio, verso la fine del 1959, in cui il cattedratico che aveva seguito mio padre durante la specializzazione lo ricontattò perché stava facendo una sperimentazione per un vaccino antitubercolare ed era molto perplesso su quelli che erano i risultati del suo lavoro e voleva contattare Padre Pio perché voleva il suo parere su questa sua sperimentazione. Padre Pio lo ricevette molto affettuosamente, come era il suo uso, e gli disse semplicemente nel suo dialetto sannita «Professor, il vino buono non ha bisogno di frasca». E chiaramente, rientrato a Bologna con grande entusiasmo, il professore coinvolse mio padre e il suo reparto nella sperimentazione di questo nuovo vaccino antitubercolare. Questo chiaramente aprì la strada per mio padre all'allargamento del reparto, alla libera docenza in pediatria che è presa nel 1960 e da qui divenne praticamente il primo professore di pediatria nella provincia e primario di un reparto che poi ha gestito fino a oltre 70 anni. nella sua vita familiare, mio padre, pur tanto dedito all'attività professionale, era un padre molto presente, molto affettuoso, ma anche molto esigente. E infatti ricordo i nostri studi seguiti da lui e da mia madre con grandissima attenzione. E capitò l'episodio che avevo appena finito la scuola media, mi avevano anche fatto studiare il pianoforte con buoni risultati e mia madre, confessandosi con padre Pio, gli chiese ma Pio Alberto potrebbe fare il pianista perché in effetti riesce bene. Padre Pio la guardò seccamente e le disse «Deve fare il medico, poi il pianoforte lo suonerà per suo piacimento». Non dimentichiamo che padre Pio mi aveva voluto fin da prima che nascessi dare il nome perché a mio padre, quando mia madre era incinta di qualche mese, chiese notizie e disse questa sera io lo chiamo Pio. Mi volle battezzare appena nato e mi volle fare la prima comunione all'età di 5 anni. Nel 59 capitò questo episodio di padre Pio malato e del fatto che io da un po' di tempo non potevo confessarmi perché non c'era la possibilità di andare a trovare padre Pio. Una domenica mio padre prese il coraggio, mi portò in convento e chiese a padre Pio se era possibile confessarmi. Dato il grande rigore di padre Pio e il suo importante esercizio del ministero confessionale, immediatamente fece uscire tanti visitatori dalla sua stanzetta e mi volle confessare subito. Io ho visto praticamente i funerali di padre Pio, avevo 14-15 anni e quindi con questa impronta mi sono avviato agli studi universitari. ricordo che quando arrivai alla laurea, mio padre accompagnandomi nell'aula di didattica dell'università dove si dovevano svolgere le tesi, mi aggiustò il nodo della cravatta dicendomi ricordati che oggi sei un medico, ma un medico come lo vuole padre Pio. Bellissima. E quindi... Bellissima questa immagine del suo papà che le sistema la cravatta e le dà questo messaggio. E infatti è stata una sorta di battesimo del fuoco per quella che sarebbe stata la mia professione. Fra l'altro mio padre pensava e ci teneva che io facessi la sua strada come pediatra e in realtà la mia strada era tutt'altra perché io ho fatto il ginecologo, ho seguito un'altra grande figura che padre Pio ha voluto nel suo ospedale che è stato il mio primario ostetrico e oggi alla pensione sono stato così fortunato da passare a mia figlia il testimone della professione perché fa l'oncologa pediatra in Casa Solieve. Che bello. Dottore, come le preannunciavo il tempo sarebbe volato e in effetti è stato così, siamo andati anche oltre quello che avevamo preventivato, però sono ricordi preziosi che è bellissimo oltre che molto importante condividere per cui io mi auguro che ci saranno altre occasioni, sicuramente non mancheranno le ricorrenze per poter approfittare, se posso dire così, dei suoi ricordi e della sua testimonianza. Per cui per il momento, ma solo per il momento, questo è tutto, la ringrazio con la speranza di poterla ritrovare presto nei nostri studi. Grazie dell'invito, alla prossima. Noi auguriamo un buon proseguimento di giornata al dottor Piolotti nel decimo anniversario della morte del suo papà, il dottor Francesco Lotti. Ci ritroviamo tra pochissimo perché tra qualche istante, come detto, il Papa farà il suo ingresso in piazza San Pietro, ma avremo anche tempo per dare qualche altra notizia. A fra poco.